Sopra luogo questa mattina delle commissioni consigliarie ambiente e attività produttive al Parco dei Divertimenti e dell'Andia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori con i presidenti Marco Gaudini e Vincenzo Solombrino presenti anche i rappresentanti della società new e dell'Andia e la presidente della mostra d'oltremare Donatella Chiodo ad illustrare gli interventi completati all'80% e l'architetto e curatore del progetto Giuseppe Klein che ha guidato la visita attraverso le attrazioni storiche riqualificate, sono otto tra le quali la Vecchia America e il Galeone dei Pirati che al termine del restauro riapriranno con effetti di forte impatto sul pubblico grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie. Abbiamo restaurato tutte le giostre storiche dal trenino alla Vecchia America, al Tronchi, al Castello, al Galeone e abbiamo comprato una serie di giostre nuove, adrenaliniche, innovative ristrutturando le vecchie giostre con tutta una serie di tecnologie olografiche che migliorano ampiamente la visione e la percezione dei giochi e di tutto. In attesa delle autorizzazioni necessarie ad installare le nuove attrazioni già acquistate dalla società sono stati completati gli interventi di realizzazione dei sottoservizi, rifacimento della pavimentazione, il recupero del verde e di abbattimento dei volumi abusivi. Di concerto con la soprintendenza, l'ente mustra d'Oltremare ed il Comune procedono gli iter necessaria e la riapertura del parco in attesa del progetto definitivo sul quale la Commissione prefettizia dovrà rilasciare la certificazione di agibilità. La città ha bisogno di questo parco giochi, i lavoratori stanno in attesa di riprendere a lavorare e quindi stamattina dobbiamo capire in modo definitivo dove ci sono le difficoltà e come poterle risolvere. Con la ripresa delle attività di Edellandia saranno reimpiegati anche gli ex 53 lavoratori, alcuni dei quali hanno collaborato agli interventi di ristrutturazione. Siamo a buon punto da quello che abbiamo riscontrato, sicuramente c'è ancora tanto da fare in alcune aree, però i lavori stanno andando avanti, sono proseguiti e c'è la cosa più importante, c'è una sinergica collaborazione tra tutti gli enti, a partire dalla mostra d'Oltremare, l'amministrazione comunale, la soprintendenza e ovviamente la società Edellandia. Ci auguriamo quindi che questa sinergica collaborazione possa portare ad una celere riapertura del parco divertimenti per restituirlo ai bambini, ai cittadini napoletani e alla città e soprattutto anche per dare delle risposte lavorative ai tanti che oggi attendono di rientrare a lavorare in Edellandia. Il futuro del parco divertimenti di fuorigrotta sarà oggetto nelle prossime settimane di una nuova seduta congiunta delle commissioni che riunirà al tavolo tutti gli attori della vicenda.